Elettromobilità, che cosa ci muoverà nel futuro? Altis un convegno su un tema che si fa strada sempre di più in relazione alla mobilità sostenibile. Le problematiche rispetto al cambiamento del clima e dell'inquinamento ambientale rendono indispensabile uno sguardo particolare alla mobilità del futuro. L'intera catena, dalla produzione del carburante fino al sistema di propulsione, deve fornire risposte concrete agli interrogativi in merito alla disponibilità futura, agli effetti collaterali, all'efficienza e soprattutto al rispetto e alle possibilità tecnologiche per far fronte alla crescente domanda. Proprio per sviluppare la tematica, il TIS Innovation Park ha organizzato un convegno dal titolo Elettromobilità, cosa ci muoverà nel futuro? Elettromobilità indica l'utilizzo di auto elettriche e di veicoli elettrici per il trasporto di persone e merci, ma perché bisognerebbe puntare di più sull'elettromobilità? Lo abbiamo chiesto a Thomas Klauser dell'Istituto per le Tecnologie Innovative. L'elettromobilità dà le risposte giuste a tre domande. La prima domanda è quella dell'efficienza. Il grado dell'efficienza nei componenti elettrici, nella mobilità, nelle macchine, è molto più elevato rispetto a quello dei motori a scoppio. E questo è già il primo argomento. Il secondo argomento è la disponibilità di carburanti nel futuro, perché già adesso dobbiamo pensare che stiamo sorpassando il peak dell'olio petrolio, cioè la quota massima di estrazione è già da qualche anno passato. E qui dobbiamo trovare alternative. Scenari uguali si avrà dal 2020 in poi col carbone, col metano e anche col urano. Perciò dobbiamo trovare molto presto alternative valide e sostenibili. L'Alto Adige, a causa della situazione orografica, ha molte strade di montagna e sbalzi di temperatura, non si presta in maniera particolare all'uso delle vetture alimentate, solo a batteria, nella quotidianità. Ma... Qui in Alto Adige abbiamo un grandissimo vantaggio. Abbiamo a disposizione molta energia rinnovabile ricavata dalle centrali idriche. E questo è il primo passo. E poi c'è anche la volontà politica di fare un passo molto decisivo nella direzione giusta della mobilità sostenibile. Grazie.